Divertenti, ironici, critici, bellissimi e bellissime. Ogni lunedì alle 22.30 i personaggi più simpatici sono a Dolce Amaro, il salotto televisivo condotto dal grande e inarrestabile Silvano Silvi. Dolce Amaro, il talk show più divertente della tv, ogni lunedì alle 22.30 su Telesantero. E Dolce Amaro Noi siamo i soliti, quelli così Centomila persone hanno acceso le luci di questa sera. La classe imprenditoriale va a brazzetto con la classe politica in Italia. È troppo facile adesso dire no, noi non ci siamo. Si sta guardando qualcuno, siamo proprio... C'è stata una specie di esplosione su Facebook. La vita del parlamentare è durissima, altro che rose e fiori. Sono molto indignato, mi girano i cordoni. Grazie, arrivederci. Liberi di volare